Si è concluso il campo del CAB San Lampedusa, abbiamo riscontrato che in quest'isola caccia è sinonimo di bracconaggio. Una parte della riserva naturale orientata presente sull'isola è comunemente utilizzata dai cacciatori. L'utilizzo di richiami elettroacustici vietati è la norma. Tutte le limitazioni imposte per la caccia nella ZPS sono frequentemente violate, come numero di cacciatori, orari di caccia e specie cacciabili. Praticamente quest'isola, che dovrebbe essere un ponte importantissimo verso l'Africa per i migratori, diventa un enorme buco nero in cui gli uccelli che arrivano stanchi e non sono pronti a ripartire vengono sterminati dalla mattina alla sera finché non sono finiti. I richiami si sentono dappertutto. C'è qua gli uccelli non se ne vanno, hai capito? Grazie a tutti. Grazie a tutti.